La notizia è che è arrivato finalmente il parere da parte della sovrintendenza che aspettavamo la scorsa settimana e quindi adesso possiamo rimettere finalmente in moto il cantiere. I lavori di risistemazione del cinerario del cimitero maggiore di Vicenza finalmente verranno ripresi. L'intervento in primavera aveva ricevuto lo stop della sovrintendenza per la parte che riguardava la parte strutturale del tetto, una struttura linea che richiedeva una specifica ricognizione degli esperti. Il cinerario che ospite i resti cremati dei defunti è di fatto inagibile da tempo impedendo la visita dei parenti. Un luogo sacro di particolare pregio artistico e culturale del cimitero monumentale che sarebbe dovuto già tornare nella disponibilità dei vicentini. La consegna era prevista per l'estate, adesso ci rimettiamo in moto subito dopo la riapertura diciamo anche dell'azienda che ha condiviso con noi l'appalto e quindi poi ripartiamo a spromba tutto. Faremo il possibile, però non mi impegno su questo, per chiudere l'operazione per i primi di novembre ma comunque ecco, confido che al massimo entro fine anno finalmente potremo chiudere questo cantiere. Altra opera autorizzata di recente è la realizzazione di un nuovo campo di sepolture islamiche. L'intervento suddiviso in due stralci permetterà di ricavare 62 tombe. Abbiamo ricevuto l'ok da parte della Giunta con l'approvazione avvenuta qualche giorno fa quindi adesso abbiamo attivato i progettisti per la successiva fase progettuale quella della progettazione definitiva ed esecutiva e di lì in poi andremo ad appaltare i lavori per la realizzazione. Anche quei tempi previsti di massimo? Saremo a cavallo della fine dell'anno, poi vediamo anche in funzione della stagione come evolve, se ci dà la possibilità, visto che è un lavoro interamente all'aperto se ci dà la possibilità di sfruttare a pieno i mesi che abbiamo davanti.